Buon pomeriggio e ben ritrovati. Tra qualche istante parleremo della raga danale. Non andate via, qualche istante. Ben ritrovati oggi è martedì, sono circa le 14, siamo in live, in diretta, così si dice su Facebook, siamo anche in diretta su Instagram, salutiamo anche gli amici di Instagram con la nostra pagina di Capire per Prevenire. È una trasmissione, è una diretta che parla di informazione medica, parla soprattutto di prevenzione. L'argomento di oggi è la raga danale. Un invito che vi faccio perché credo che l'informazione medica, soprattutto quella che noi ormai facciamo da quasi tre anni, in modo semplice, parlando un linguaggio semplice, vi chiediamo la cortesia comunque di condividere anche in questo momento la nostra diretta anche per dare l'opportunità, la possibilità a più persone di vederla e a più persone di essere raggiunti da un'informazione che possa essere realmente valida e utile perché la prevenzione è indubbiamente la cura più efficace, la cura più importante. Allora oggi parliamo di raga danale, è un argomento che abbiamo trattato anche altre volte, come vi ho sempre detto io qui ho il telefonino nella quale verifico e controllo la diretta che sto facendo, per cui se avete delle domande da fare potete tranquillamente farle qui sulla pagina, vedete come siamo proprio in diretta, ecco siamo in diretta, ho tolto l'audio e se io leggerò delle domande compatibilmente con l'attenzione vi risponderò direttamente, la raga danale che cos'è? La raga danale, Angelo puoi partire anche col primo cartello, è una patologia sembrerebbe semplice, sembrerebbe banale, una piccola ferita dell'ultimo tratto del tubo digerente, dell'ano in particolare, che insorge per quale motivo? Alla base dell'insorgenza di questa malattia per cui della nascita di questa insorgia c'è il traumatismo, c'è qualcosa che è passato per il canale anale che ha creato un trauma, un fastidio, una lacerazione, una ferita, un'ulcera e cos'è che quasi sempre è chiamato in causa? Soprattutto nel sesso femminile rispetto al maschile vi è una preponderanza rispetto al maschile del sesso femminile, il sesso femminile che significa è più affetto da questa patologia e che cosa succede? Il traumatismo, il passaggio per esempio di feci dure, comporta una lacerazione, una ferita dell'ano. Questa ferita dell'ano, ed è questa la prima informazione che noi vogliamo farvi arrivare, che è fondamentale e importantissima, questa ferita dell'ano può guarire spontaneamente con terapie conservative se viene trattata in un tempo breve. Per breve significa nell'ambito del mese, mese e mezzo, perché se al primo fastidio, se al primo accenno di un'insorgenza di questa fastidiosissima patologia, voi andate dal medico di base che sempre dovrà essere il vostro punto di riferimento e tramite il medico di base che vi visiterà fate diagnosi di raga danale, è chiaro che cominciando una terapia conservativa e vedremo su che cosa si basa la terapia conservativa, che cosa succederà? Voi avrete una possibilità enorme di guarire da questa malattia in modo rapido e senza le mani del chirurgo. Il chirurgo non è felice di operare per forza una raga danale, anche perché la raga danale, il paziente con raga danale, è un paziente che è anche impegnato dal punto di vista psicologico, perché? Perché comunque è una patologia che crea un grosso fastidio, un grosso dolore, un dolore poi tra l'altro che non molla mai, è un dolore che persiste per tutta la giornata, è un dolore urente, fastidioso, che fanno cambiare anche l'umore alle persone, cioè le persone affette da questa patologia a un certo punto proprio perdono, per così dire, la testa. Allora, vedete che i segni sono il dolore intenso, profondo, pungente, urente, che è patognomonico, cioè se non vi è dolore, quasi quasi si potrebbe dire che non vi è la raga danale. L'esordio di solito è un esordio immediato e questo esordio, più spesso delle volte, è legato al momento dell'evacuazione, cioè quando si ha il passaggio del cilindro fecale, a quel punto che cosa succede? La ragade suscita dolore, questo dolore che cosa crea? Crea una contrazione dei muscoli sfinteriali, volontario e involontario, purtroppo è così, quando c'è dolore uno tende a stringere, questa ipertono, questa modalità, questa reazione, che è una reazione, credete, legittima del paziente, crea un'accentuazione, una esacerbazione del dolore, tanto da indurre ancora ipertono. A lungo andare è facile capire che il sistema si esaurisce da solo. Allora, quali sono, ritorniamo pure alla diapositiva, Angelo, quando vuoi, le cause che ne determinano l'insorgenza? Abbiamo visto che una delle cause principali è il traumatismo da passaggio di feci dure, l'ipertono. L'ipertono è una conseguenza o era preesistente? È una domanda bellissima, alle quali quasi nessuno di noi sa rispondere, ma non è tanto quello che importa. Quello che io invece vorrei mettere alla vostra attenzione sono le abitudini voluttuarie. Il non bere almeno 2-3 litri di acqua al giorno è un danno, perché? Perché le feci che arrivano alla fila del loro tragitto sono disidratate, sono povere di acqua, per cui arrivano dure, sono sassi, veri e propri sassi. Allora, per esempio, nel bere poca acqua, la dieta, la dieta è un momento importante nella vita di ognuno di noi, però questa dieta, completamente deprivata di fibre, per cui pasta, patate, verdure, olio, grassi, creano anch'esse uno stato di stipsi, cioè di stitichezza. E questo, se da una parte, diciamo, è accettato se il risultato è quello di un dimagramento, dall'altra questo problema suscita invece altri problemi, per cui bisogna sempre, con moderazione e seguiti da uno specialista, procedere, per esempio, a una dieta. Altri motivi che possono far insorgere una raga danale possono essere malattie infiammatorie, delle proctidi, così come delle malattie infettive che possono creare queste ulcerazioni. Insorta questa raga danale, come vi dicevo all'inizio, è patognomonico il dolore. Patognomonico significa che non vi è raga danale se non vi è dolore. Un altro segno che deve praticamente esserci sempre è il sanguinamento. Perché? Perché la raga danale erode, ulcera, si approfondisce al di sotto della mucosa anale e va verso il profondo. Cosa c'è nel profondo? C'è lo sfintere. Lo sfintere che viene eroso anch'esso, sono fibre muscolari, viene eroso anch'esso da questa ulcerazione a racchetta, a questa configurazione a racchetta, e erodendo sempre in profondità questo tessuto arriva allo sfintere. Arrivando allo sfintere, che cosa succede? Succede che si lacerano anche dei piccoli vasi che compongono lo sfintere e questo è la causa del sanguinamento. Ma che tipo di sanguinamento è? Innanzitutto è un sanguinamento che insorge subito dopo l'evacuazione. Può insorgere anche durante l'evacuazione, ma la cosa importante sono le caratteristiche cromiche di questo sanguinamento. Il sanguinamento deve essere assolutamente un sanguinamento rosso, rosso vivo, che proprio la denuncia la rende più possibile evidente. Una volta che andate dal medico di base, visitandovi perché una semplice divaricazione dei glutei, una semplice osservazione, si dice in termine tecnico, una semplice ispezione, fa vedere questa ferita, questa raga denale. In una diapositiva probabilmente alla fine, dove parleremo del trattamento chirurgico, vedrete come si vede una raga denale. Comunque una banale visita dal medico di base, che cosa fa? Mette in evidenza questa ferita, questa ulcera che di sodio si va a localizzare posteriormente, c'è nella parte posteriore dello sfinteranale, lì dove per intenderci c'è il sacro, il coccige. Ecco, lì si va a localizzare questa ferita, il medico che vi ha visitato la evidenzia e se siete in una fase acuta, e per acuta si intende insorta da meno di due mesi, insorta recentemente, bastano un piccolo trattamento conservativo per poter guarire definitivamente da questa malattia. Come vedete nella diapositiva che adesso Angelo vi mette, la strategia terapeutica si compone di tre fasi. La prima fase è un trattamento conservativo, la seconda fase è un trattamento medico, la terza e ultima fase è un trattamento chirurgico. Allora, vediamo il trattamento conservativo. Il trattamento conservativo si compone di alcune procedure, di alcune correzioni, sicuramente la correzione più importante è la correzione alimentare, cioè un entroito di fibre e di acqua aumentata. Poi utilizzare dei semicupi. I semicupi non sono altri che i bidet, fatti con acqua semplice, acqua tiepida soprattutto, e utilizzando un sapone battericida, un sapone che però non è bisogno accedere neanche con quello, perché sì è una zona che va sempre tenuta ben detersa, però è anche una zona che non deve essere troppo detersa. Quando poi ci sono delle creme anestetiche si possono adottare per attenuare il dolore. L'importanza dell'attenuare il dolore non è legata soltanto al fatto di avere la possibilità di stare meglio anche psicologicamente, ma soprattutto perché se si attenua il dolore la ipercontrattibilità conseguenziale che, come vi dicevo all'inizio, ne deriva, si attenua e quello è un primo momento di probabile guarigione di questa ragade in modo spontaneo e in modo naturale. Perché? Perché se questa ipercontrattibilità persiste, che cosa succede? Succede che in quella zona dove già c'è un'ulcera, c'è una ferita, quella zona non è raggiunta dal sangue bene, dall'ossigeno per cui, per cui non arrivano quelle sostanze atte alla nutrizione di quella zona e alla guarigione. Alle creme anestetiche potete aggiungere dei dispositivi che sono dei piccoli dilatatori anali, che devono essere prima comunque ricoperti da una crema anestetica, che sono fatti in diverse dimensioni, da piccolo, medio a grande, e questi permetteranno allo sfintero anale di essere praticamente ammorbidito nella sua contrattibilità. Da alcuni tempi è presente sul mercato un gel che viene utilizzato, vengono fatti dei piccoli clisterini con questo gel, che è utilizzato in modo costante per un periodo più o meno lungo, almeno un mesetto, ma sempre, vi ricordo, all'inizio dell'insorgenza della patologia. Perché se la patologia va troppo avanti, oltre i due mesi, si cronicizza. E purtroppo la terapia medica, così come le correzioni conservative che vi ho detto, purtroppo non porteranno a soluzione di questo problema. Questo gel, devo dire che nell'esperienza che tutti noi stiamo osservando, sta dando degli ottimi risultati. Dei risultati in cui alcune ragadi che una volta erano classificate come chirurgiche, invece non sono più chirurgiche e vengono risolte brillantemente. Quando purtroppo la terapia medica non è più efficace, non riesce più a risolvere il problema, a quel punto non resta che rivolgersi al chirurgo, il quale chirurgo dovrà procedere alla sezione, vai pure con la diapositiva, ma Angelo, alla sezione di alcune fibre dello sfintere, deve incidere alcune fibre dello sfintere. Queste fibre dello sfintere devono essere sezionate in modo molto, molto pacato. Perché questo? Perché il paziente non deve rischiare nel posto operatorio poi di avere una sezione di questo sfintere troppo eccessiva, tanto da determinare poi una difficoltà alla continenza, che poi col tempo, con della ginnastica viene corretta. Ma questo non deve essere fatto. Questo significa che chi si accinge come chirurgo a procedere a questo tipo di chirurgia deve avere esperienza. Perché questa non è una chirurgia che devono fare tutti, è una chirurgia che deve fare un chirurgo sicuramente dedicato. Oltre alla sezione di questo piccolo, poche fibre di questo sfintere, uno sfintere particolare, il chirurgo procederà a fare una plastica anale di questa ferita, cioè tenterà di chiudere parzialmente o chiudere intelligentemente dopo averne pulito i margini per cui aver tolto tutto quel tessuto calloso che si è andato a creare, il chirurgo dopo aver fatto questa diatermocoagulazione, questa pulizia comunque di questo sfintere, scusate, di questa ragade farà una piccola plastica che non deve essere neanche troppo spinta perché tanto comunque non risolveresti il problema se la chiudessi tutta perché alla prima evacuazione quella ferita che tu hai tentato di chiudere si riaprirebbe. Saluto Sergio Bruni che mi sta scrivendo in questo momento, così come altre persone che sono connesse con noi in questo momento, ma noi abbiamo terminato. Risponderò alle vostre domande in qualsiasi momento, se voi volete potete continuare a scrivere qua, noi, io insieme ai miei collaboratori verifichiamo giornalmente anche diverse volte durante la giornata la pagina di Capire per Prevenire dove tra l'altro invito anche i vostri amici a mettere un like per cui siate anche voi portavoce di questo nostro lavoro, che stiamo facendo con passione, cercando di portare l'informazione medica nelle vostre case, nei vostri telefonini, nei vostri computer nel modo più semplice, più orecchiabile, più facilmente comprensibile. Per cui anche voi invitate i vostri amici a mettere un like, condividete, è la cosa migliore che potete fare per i vostri amici, queste dirette, perché in questo modo voi porterete l'informazione anche ai vostri amici e magari potrebbe essere anche per loro utile. Detto questo, l'appuntamento è per martedì prossimo alle 12.45, per chi non lo sapesse, noi prima andiamo a Radio Italia anni 60 per Roma e provincia e Radio Italia anni 60 trasmette sulla frequenza di 100.5, ma solo per Roma e provincia, però è anche in diretta su Facebook, sulla pagina di Capire per Prevenire, la pagina da qui, da dove noi partiamo tutti i martedì, perché l'appuntamento nostro è il martedì, ricordatevelo. E alle 14 è il vero e proprio appuntamento, un appuntamento che nasceva tre anni fa, così, per curiosità, da me insieme ai miei assistenti. Abbiamo molto successo, ogni settimana aumentano le visualizzazioni, grazie soprattutto anche a voi che condividete il nostro lavoro. La prossima settimana, la prossima settimana sarà nostro ospite, perché per tutti noi, anche per me, il professor Luigi Zompatori è un oculista della Sapienza, dell'Università di Roma la Sapienza, che è un primario oculista che ci verrà a parlare di un problema dell'età un po' meno giovane, ci parlerà della cataratta e ci spiegherà qual è la metodica chirurgica più moderna, più attuale, per risolvere questo problema visivo che affligge tantissime persone. Grazie di essere stati con noi, grazie se condividerete il nostro lavoro, appuntamento a martedì prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.